Il progetto di riqualificazione dell'ex mercato ortofrutticolo di Pescaiola torna in consiglio comunale ad Arezzo con un'interrogazione di Alessandro Caneschi del Partito Democratico. Siamo un po' preoccupati del tempo che passa, sono dei immobili abbastanza complicati, qualche giorno fa è stato fatto anche uno sgombro da parte della Polsia Municipale per l'occupazione abusiva di quei locali che aveva innescato nella popolazione residente limitrofa un po' di preoccupazione. Abbiamo chiesto alla fine cosa vuol fare il comune di questo immobile. Da una parte il sindaco nell'intervista alla concittà di Gregorio ha detto che non intende assolutamente portare avanti il progetto di Negrita che prevede la realizzazione di un polo musicale in quell'area, però dall'altra parte non propone niente di alternativo. Quindi noi che siamo favorevoli al progetto di Negrita spingiamo per che questa decisione venga presa più presto e che venga rispettato la scadenza del 31 dicembre 2019 per la conclusione dei lavori. È arrivata così anche un'apertura del sindaco sui contenuti del progetto presentato dalla società che fa capo a Negrita. Il progetto è bello, tra l'altro il progetto riuscirebbe a completare l'offerta musicale della città di Arezzo, città di Guido. Il problema è che andare a mettere una struttura come quella con il tipo di attività che svolge in un quartiere residenziale come quello di Pescaiola non è il massimo. Io ho fatto riferimento a una possibile modifica dell'iniziale intendimento dell'amministrazione che era quello di mettere in quel luogo un incubatore d'azienda. Diciamo che non è che ciò ha ripensato, è che gli incubatori d'azienda a cui io pensavo negli ultimi tre anni di fatto sono in calo di appetibilità. Si stanno trasformando in qualcosa di diverso. Ora si tratta di vedere se comunque mantenere la indicazione di svolgere in quel luogo attività promozionale per le giovani aziende, perché questo era un po' il mio obiettivo, cioè favorire le giovani aziende a rettine, specialmente le start-up innovative. Se si può pensare a quello oppure se non si possa tentare, e ci proveremo a farlo, di rendere compatibile l'idea di Supermagica con quel sito.